Il maestro è il cacciatore, noi siamo alle papere e dobbiamo correre che lui non ci prende e dopo se qualcuno viene preso, dopo dobbiamo cercare di arrivare fino in fondo per liberarle. Innanzitutto cerchiamo di farli divertire perché essendo giovani hanno bisogno di sfogarsi quindi molte volte sono bambini che stanno a scuola tutta la giornata quindi quando vengono da noi deve essere un divertimento ed un piacere oltre a praticare uno sport che può essere utile nella vita. Io ho iniziato perché mio nonno gli piaceva e ha detto provo a fare questo sport poi lui gioca da almeno 70 anni. Colpire la pallina è come colpire un vessaglio. Mi piace in questo senso, in senso di energia. A me riesce meglio a fare il dritto e la battuta. Mi sto allenando a fare la schiacciata. Facciamo delle prove gratuite senza impegno. Vale la pena secondo me far provare a questa età questo bellissimo sport molto divertente. Noi abbiamo sempre le porte aperte quindi quando volete potete contattarci e noi siamo qui che vi aspettiamo.